Trombe d'aria e raffiche di vento oltre i 100 km orari, nubi fragi con campi allagati da oltre 2 metri d'acqua, alberi sradicati, raccolti distrutti e il drammatico bollettino del disastro meteorologico in Puglia denunciato da Coldiretti. Sentiamo. Trombe d'aria e raffiche di vento oltre i 100 km orari, nubi fragi con campi allagati da oltre 2 metri d'acqua, alberi sradicati, olivi a terra, canali esondati, serre e tendoni distrutti, fiumi di fango che stanno coprendo campi e strade rurali, circolazione stradale interrotte e scuole chiuse. E' questo il drammatico bollettino in continuo aggiornamento del disastro meteorologico che a partire dalla notte scorsa si sta battendo su tutte le province della Puglia. Proprio per questo Coldiretti ha chiesto di verificare le condizioni per lo stato di calamità nelle zone colpite dal maltempo che ha danneggiato duramente i raccolti autunnali, provocando frane e smottamenti. Nessuna provincia si sta salvando dal clima impazzito che ha visto la nostra regione passare da scenari primaverili a panorami prettamente invernali con fenomeni di carattere intenso. Gli agricoltori si sono ritrovati a vivere scene da film spaventose, con cascate d'acqua e canali esondati, oltre a campi di ortaggi invernali distrutti e oliveti spazzati dalla violenza del vento. Queste le parole di denuncia di Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, che continua «Servono interventi infrastrutturali per non disperdere l'acqua piovana e manutenzione ordinaria e straordinaria di canali di scolo, invasi e reti irrigue, abbandonate a se stessi da decenni». Dal 1 agosto ad oggi si sono verificati ben 36 eventi estremi, a cui vanno ad aggiungersi i fenomeni che si stanno registrando in queste ore, aggiunge Coldiretti Puglia, sulla base della Banca Data Europea sugli eventi estremi. L'allarme meteo è quindi ancora in atto e le misure d'emergenza necessarie.